Marco Fantini e Beatrice Valli festeggiano il battesimo di Bianca, c'è anche la sorella Ludovica Grande festa per Marco Fantini e Beatrice Valli, la coppia tanto amata dai fam di uomini e donne ha celebrato poche ore fa il battesimo della figlia Bianca, nata circa tre mesi fa La piccola è stata festeggiata con un bellissimo party dopo la cerimonia in chiesa, che ha visto riunirsi Lavalli con le sorelle Ludovica, anche lei passata per Ued e poi per Temptat Mislang, ed Eleonora, con parenti e amici Proprio dalle Instagram stories delle due zie, ecco arrivare una serie di scatti della giornata. Il battesimo di Bianca Fantini La piccola Bianca è stata battezza in una chiesa di Milano. Dopo, la festa si è spostata in uno dei più bi ai locali della città meneghina, la splendida terrazza dell'hotel Memila Milduca, addobbata con fiori e decorazione rosa La famiglia Valli è salita al completo dall'Emilia, comprese la madre della sorelle, Sandra Malavasi, e la loro nonna, la signora Rema. Bianca è nata il 29 giugno. Bianca Fantini è nata lo scorso 29 giugno Giorni dopo il lieto evento, la stessa Beatrice aveva raccontato il difficile parto, dall'arrivo di Marco trattenuto da impegni di lavoro appena in tempo per assistere alla nascita della piccola all'insorgere di alcune complicazioni che fortunatamente si sono subito risolte. La coppia ha accolto l'arrivo della loro prima figlia con grande gioia, come pure il fratello maggiore di Bianca, Lavalli è infatti già mamma di Alessandro, nato da una precedente relazione quando lei era ancora giovanissima. Le sorelle Valli più unite che mai. Le immagini della festa spazzano via del tutto le voci sui rapporti freddi tra le tre sorelle Valli. Da anni si mormora di come Beatrice e Ludovica sarebbero divise da questioni familiari, ma queste foto raccontano tutta un'altra storia. La stessa Beatrice, tempo fa aveva smentito del tutto tali indiscrezioni, spiegando che semplicemente e lei e Ludo riescono a frequentarsi poco per via del lavoro, non ho litigato con mia sorella, con Ludo. Non ho litigato con nessuno. E' soltanto che con gli impegni lavorativi veramente non ci vediamo mai. Io abito a Milano, lei lavora a Milano poco e gira spesso. Anche con l'altra mia sorella Eleonora ci vediamo veramente pochissimo. Grazie a tutti.